Ennesimo l'impasto di giunta a Pescara, a poco più di due mesi dalle elezioni amministrative, dopo le dimissioni di Antonio Blasioli approdato a Palazzo Silone, Tonino Natarelli ha assunto la carica di assessore rilevando le deleghe dello stesso Blasioli, fra cui i lavori pubblici ed il personale. Penso che ognuno deve fare il proprio dovere, abbiamo delle necessità, delle cose da fare, da portare avanti e sono ben lieto di fare l'assessore anche perché ho degli assessorati importanti, i lavori pubblici e il personale quindi avrò da lavorare, insomma il ruolo è secondario. Ci sono tantissimi cantieri, io per la verità non sono stato finora come dire un cultore della materia però insomma penso di essere un professionista quindi sono abituato a prendere in carico le cose, a studiarmele, a confrontarmi con i dirigenti e poi il lavoro consisterà soprattutto nel portare a termine quello che ha fatto Antonio Blasioli, di controllare che le cose siano fatte bene con la speranza di fare più cose possibile, ovviamente ognuno ha delle idee, un tocco personale c'è sempre però mi atterrò a portare la nave in porto, questo è il mio compito. Un po' sorpresa invece la carica di vice sindaco è andata a Giovanni Diacovo, questa mattina l'ufficializzazione nel corso del Consiglio Comunale a Palazzo di Città. Una bella sorpresa ma non solo una sorpresa perché in fondo io faccio politica da ragazzina, ho avuto un percorso molto regolare senza scossa dalle associazioni, Alizia Sudenteschi, Consiglio di quartiere, Consiglio Comunale Opposizione, poi maggioranza. Oggi sindaco è un onore enorme per me, che amo tantissimo questa città e faccio politica e vivo ogni aspetto di questa città tantissimi anni. È un onore sicuramente che per me non è un epilogo di un periodo ma è l'inizio, il prologo di una nuova storia secondo me che scriveremo anche nei prossimi anni. Ti ringrazio molto per questa scelta del sindaco Marco Alessandrini, io ce l'ho messa tutta in un mondo che mi appartiene, che è il mio, quello della cultura, quello delle associazioni, dei giovani, della scuola, ce l'ho messa tutta, i risultati un po' ci sono stati e sono molto felice di poter continuare a occuparmi di questo, di questo riconoscimento che lo è anche per tutte le persone, centinaia e centinaia di persone che hanno collaborato con il mio assessorato in questi cinque anni.